Buonasera e bentrovati al nostro appuntamento settimanale con RTTR Volley. Trento che ha vinto contro Piacenza al Palabanca 3-1 per il giallo-blu. Vi racconteremo questo, ma vi racconteremo anche di una settimana davvero importante, perché mercoledì c'è già il prossimo impegno di Superleghe e poi, lo sappiamo, nel fine settimana c'è la Final Four di Coppa Italia. Nella seconda parte parleremo anche di femminile, ma cominciamo subito con l'Itas Moschile. Abbiamo qui l'assistant coach Adriano Dipinta. Ciao Adriano, buonasera. Ciao, buonasera. Benvenuto anzitutto. Come l'umore immagino molto alto, siete primi. Sì, sì, ma non ci possiamo lamentare. Com'è andata questa partita con Piacenza? Abbiamo visto un'Itas un po' dai due volti, c'è stato quel secondo set in cui avete abbassato la guardia e Piacenza ne ha approfittato soprattutto in battuta. Sì, sì, beh, la differenza è proprio quella. Quando si riesce a esprimere un proprio valore con la battuta, dopo le cose sono tutte più facili e così loro sono riusciti nel secondo set. Non abbiamo messo qualche errore di più, non siamo riusciti a tenere qualche palla. Poi è arrivata la serie di Simon che insomma ci ha un po' spezzato il set. Poi dopo ci siamo ripresi, i ragazzi sono stati bravissimi a reagire proprio in battuta. Hanno mantenuto una continuità, una qualità molto alta e quindi è andata. Diciamo che uno degli aspetti difficili di questa partita forse era il fatto che arrivavate da una sconfitta e è stato un anno con poche sconfitte, quindi bisognava forse un attimo lavorare anche in spogliatoio prima di affrontare questo match. Sì, beh, diciamo che i ragazzi già è più di una volta che affrontano questi piccoli inciampi e ogni volta ne escono trasformati perché è un gruppo che è molto riflessivo, non c'è bisogno neanche di intervenire particolarmente perché già tra di loro parlano, ognuno per sé lavora molto concentrato sul proprio miglioramento, quindi al primo intoppo sono i primi che cercano di modificare, di migliorare, di cambiare, quindi insomma l'hanno fatto anche questa volta, l'hanno fatto dopo Modena benissimo quando siamo andati a Resovia. Ecco, quindi benvengano questi intoppi se uno li sa affrontare, poi alla fine è sempre quello. Il problema non è mai nel problema stesso, insomma, e come viene affrontato, loro sono molto bravi, quindi per ora sono riusciti a fare questa cosa e io gli auguro di farlo sempre, ogni volta che capiterà, speriamo capiti sempre meno. Ma perché questo secondo te? Perché sono un gruppo rodato, giocano insieme anche in nazionale molti di loro, arrivano da un anno bello con una vittoria o scudente? Secondo me è un gruppo molto responsabile, sono ragazzi molto maturi, nonostante la giovanissima età di media, diciamo qualcuno supera, però a parte gli scherzi sono un gruppo veramente maturo. Poi giovanissime hanno fatto tutti quanti delle esperienze importanti a livello pallavolistico, per cui credo che se le portino a presso, insomma, dalle nazionali, dagli anni passati, insomma, è un gruppo veramente che lavora con interesse. Allora andiamo a vedere il primo servizio di questa sera, che ci racconta appunto cosa è successo nella match di ieri contro Piacenza, intanto se volete scrivere le vostre domande al mister, vi ricordo il contatto WhatsApp che è il 339-466-0076, ora vediamo il servizio. Palabanca sbancato con un 3-1 che non lascia punti ai padroni di casa, nonostante il mezzo capitombolo in Champions League, Litas subito si rialza e corre come il vento in Superlega, contro la temibile Piacenza, terza forza del campionato, i gialloblu non lasciano spazio alla replica se non per un unico set. Nel quindicesimo turno di regular season, Soli schiera la sua formazione tipo e raccoglie una partita convincente sia dal punto di vista del gioco che sul fronte della mentalità. Litas inizia molto bene e vince il primo set 18-25, nel secondo subisce il ritorno dei padroni di casa che premono al servizio e forti del rientro di Leal, che Anastasi preferisce far tornare al gioco con gradualità dopo l'infortunio, riescono a piegare la reazione trentina, almeno per il momento, e pareggiare i conti vincendo il parziale 25-19. Poi Trento torna a spadroneggiare 16-25 e 15-25, punteggi che raccontano molto bene quanto Trento abbia controllato la partita giocata in Emilia, merito di un attacco che ha viaggiato su ottime percentuali. Il migliore in campo è Alessandro Micheletto, che chiude con 18 punti e il 62% in attacco, oltre a due muri. Ottima la prova anche di Rick Litschki, che chiude col 55% e un'ottima prestazione in battuta, dove punge moltissimo pur senza trovare punti diretti. A segnare Ace ci pensa allora la via, che fa registrare meno efficaci in attacco, ma mette a terra quattro punti diretti dai nove metri. Andiamo subito a sentire anche le reazioni di Mr. Solli e di alcuni dei ragazzi protagonisti che ci ha raccolto Franz Segani in trasferta. Un ottimo approccio alla partita e questa è una cosa che ci appartiene. Come ci siamo detti in spogliatoio prima della gara, è importante per noi questo tipo di approccio, mantenerlo e esserne consapevoli. Credo che nel secondo set ci sia stato un innalzamento del livello di battuta di Piacenza, che sappiamo avere come arma al servizio e sappiamo che con questa arma può far male e a noi ha fatto tanto tanto male, siamo anche scesi parecchio in attacco. Però poi abbiamo avuto, a differenza dell'ultima partita con Resovia, la pazienza di tornare dentro al campo e di guadagnarci punto a punto, ritornando a spingere tantissimo col servizio, fino a che loro secondo me a un certo punto hanno anche visto che avrebbero potuto fare poco. di fronte, credo, a una buona solidità nostra nel terzo e nel quarto parziale. Siamo andati bene nel primo, nel terzo e nel quarto. Abbiamo spinto molto con la battuta, siamo stati lucidi in attacco e in ricezione siamo stati presenti. Nel secondo set c'è stato un piccolo calo, anche e soprattutto in attacco, e loro hanno ripreso il ritmo. Siamo stati bravi poi nel corso della partita di imporre poi il nostro gioco. Battere Piacenza in queste condizioni è bello, è bello, è una grande soddisfazione. Loro hanno recuperato quei piccoli infortuni che avevano e ora si vede. Il livello del gioco è molto alto e noi siamo, il fatto che siamo stati presenti è stato molto positivo. Siamo stati presenti dalla prima fino all'ultima pala. Magari di differenza di set non dimostrano la storia vera del campo, però veramente una bella partita, abbiamo fatto tanta pressione con la nostra battuta dall'inizio fino alla fine. Al loro ricevitore le hanno provato di cambiare anche formazioni, di mettere tutto, però alla fine siamo in crescita, siamo in un bel momento, però piedi per terra. Andiamo passo per passo, un grande e bella vittoria che portiamo a casa a tre punti, però già siamo con la testa alla prossima partita contro Milano. Allora andiamo a vedere anche cosa è successo sugli altri campi. in questa quarta giornata del girone di ritorno, Modena-Perugia 0-3, Piacenza-Trento 1-3, Taranto-Monza 1-3, Civitanova-Milano 3-2, Cisterna-Padova 3-1, Verona-Catania 3-1, con la classifica che vede Trento in testa a 40 punti, Perugia 37, Piacenza 32, 27 punti, Civitanova 26, Milano-Monza 24, Verona 23 punti, Modena 19, 16, Cisterna 11 punti, Padova e Taranto chiude la classifica Catania a 4 punti. Un turno che vedeva proprio nel match di Piacenza quello più atteso, c'era però un'altra partita, Modena-Perugia, ti aspettavi un 3-0 in trasferta della sera? Beh sì, decisamente, non perché Modena non possa combattere queste partite, però in questo momento, insomma, Perugia è veramente, sta giocando una palla a volo veramente di altissimo livello, è difficile competere. Rispetto agli altri anni, vediamo anche una classifica con le prime due, Trento, appunto, e Perugia più staccate rispetto alle inseguitrici, che appunto è a Piacenza, che adesso ha 8 punti meno dell'ITAS. Sì, secondo me è ancora una situazione molto momentanea, nel senso che ovviamente noi e Perugia faremo di tutto per mantenere questa posizione, però ancora con un'estate così piena di impegni che hanno avuto tutti i ragazzi a livello internazionale, anche le altre nazionali, è normale che ci sia qualcuno che ha da recuperare, sia qualcuno che inizia, poi dopo si deve fermare, c'è qualche infortunio, quindi ancora abbiamo incontrato delle squadre che forse non erano tutte al completo, non erano tutte performanti, quindi aspettiamo di vedere, l'importante è essere partiti così bene per noi e andare avanti in questo modo il più possibile. Andiamo subito a parlare anche di quella che è stata la sconfitta con Resolvia, che ha chiuso la Pool B, avete chiuso comunque il primo posto, già qualificati per i quarti, questa è la bella notizia, diciamo che una caduta così ci poteva anche stare, anche perché è stata comunque una partita combattuta. Sì, ecco, anche in quel caso lì abbiamo fatto un po' più fatica con la battuta, loro invece sono stati molto molto bravi e quindi comunque perdere 3 a 2 è stata comunque una sconfitta che dimostra quanto anche i ragazzi che sono entrati da fuori ci tengono a non perdere comunque, anche se ecco non è stata una sconfitta drammatica, ci aiutava nel proseguo per quanto riguarda giocare la partita alle belle in casa, insomma, però al di là di quello comunque ci teniamo sempre a far bene. Anche i ragazzi sono entrati da fuori e l'hanno dimostrato, hanno portato questa partita a Tebrek. Infatti è stato più rammarico per il peccato di aver rimontato e poi dopo non siamo riusciti a concretizzarlo. In questo caso, guardando oltre, bisogna aspettare il risultato degli ottavi, c'è anche la possibilità di ritrovare il tour. Ormai qui a Trento avevamo un po' il fantasma di questa squadra francese che ci ha rubato una coppa, ci ha rubato, portato via giustamente, però insomma adesso abbiamo superato anche questo. Sì, beh, possiamo rincontrare. Effettivamente tour è una squadra che veramente lavora molto molto bene, difende, batte in maniera importante, quindi insomma è stato particolare aver vinto lì da loro, quindi insomma ci aspettiamo comunque se fossero loro ancora grandi battaglie. Abbiamo guadagnato anche la possibilità di giocare in casa alla gara eventualmente decisiva e questo cosa vuol dire in Champions? Conta molto? Beh sì, è importante perché comunque il campo fa la differenza. Poi il nostro campo con i tifosi, quando ci seguono, il nostro ambiente è sempre importante. Poi avendo anche appunto questa particolarità, oramai in questo gioco dove la battuta è preponderante, è chiaro che se giochi in casa hai sempre qualcosa in più. Allora andiamo a sentire anche le interviste raccolte al termine di quel match, era il sesto turno della Pool B di Champions League, ha chiuso questa fase a Gironi. È stata una partita abbastanza difficile dal punto di vista di energia, dal punto di vista di attenzione in campo, è stata un po' così, dall'alto a basso, e quindi non è la nostra miglior prestazione sicuramente, però alla fine siamo riusciti a portarlo al quinto set che poi alla fine non siamo riusciti a vincere. Però secondo me è un punto importante per la classifica e dobbiamo andare avanti con la testa alta. Comunque è una partita e adesso ci aspettano altre. Ha giocato secondo me un'ottima pallavolo, ma sapevamo che di fronte avremmo avuto una squadra con delle individualità che fino a questo momento della stagione probabilmente non hanno ancora espresso il loro massimo potenziale. Hanno un'arma che a noi oggi ha dato tanto tanto fastidio, che è la battuta, che dal secondo set in poi, ma già dal primo non ci ha permesso di avere con costanza la palla dentro i tre metri e soprattutto con gli esterni abbiamo fatto una fatica mondiale in attacco e questo non ci ha permesso di riuscire a portare a casa una partita la quale tenevamo particolarmente perché vincere questa partita per noi voleva dire tanto. Siamo stati secondo me bravi a rimanere agganciati con l'energia di tutti alla partita nel quarto set e a portarla a casa che per noi è un punto stra-importantissimo. Per noi è importante portare a casa questa partita per come è stata perché ci riporta un po' al lavoro, ci riporta un po' alle nostre sane abitudini e ci serve anche, credo, in vista delle prossime partite perché abbiamo due partite di campionato molto importanti e poi la Coppa Italia che per noi è un obiettivo quindi poter andare a far bene là passa anche da come andremo a digerire questa sconfitta. Andiamo a leggere qualche domanda che arriva dai nostri tifosi da Nonno Herman che ti chiede qual è la caratteristica principale di coach solo durante i time out e che tipo di supporto tecnico ti chiede durante la partita? Guarda, Fabio spesso interviene ricordando alcune cose tecniche ma soprattutto identificando il momento che stiamo vivendo e quello che ci aspettiamo di fare subito rientrati in campo quindi questa è una cosa che credo che aiuti molto anche i ragazzi a rifocalizzare un po' l'attenzione su quello che ovviamente quando c'è stato un time out c'è qualcosa che non va insomma quindi un attimo riprendere quel focus lì devo dire che sempre anche nei momenti di difficoltà riusciamo a rimanere sempre sereni con i piedi per terra sappiamo che le difficoltà è normale che arrivino perché non incontreremo mai e non incontreremo mai una squadra che possiamo definire scarsa a questi livelli non esiste per cui è normale subire anche qualche punto e quindi poi la tranquillità di poterci lavorare sopra e risolverli per quanto riguarda quello che mi chiede mi chiede un po' tutto insomma però vabbè no soprattutto di seguire un po' se quelle che le indicazioni che avevamo visto inizialmente si stanno rispettando quello che gli avversari stanno facendo rispetto a quello che avevamo studiato insomma questo ecco poi Manu da Bergamo ti chiede se da agosto ad oggi hai visto alcuni ragazzi che sono migliorati più di altri oppure se la crescita tecnica è stata costante nella squadra ma la crescita tecnica è stata costante per tutti poi è chiaro che già i grandi campioni migliorano su piccolissimi dettagli insomma che curano in maniera delle volte anche maniacale per esempio anche il discorso delle battute cambiare anche una posizione di battuta cambiare una traiettoria si vuole tanto lavoro e quindi magari sono piccoli miglioramenti i grandi miglioramenti sicuramente stanno nei ragazzi della panchina perché stanno mettendo un impegno grandissimo e poi aiutati dagli altri stanno diciamo compensando quelle carenze che c'erano inizialmente devo dire che tutti i ragazzi giovani hanno fatto dei grandi passi in avanti avete dato anche parecchia fiducia per esempio giulio magalini o pace che abbiamo visto schierati anche in alcuni casi proprio nel sestetto iniziale sì 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 assolutamente tra l'altro proprio meritato nel senso che ma non che sia una conquista particolarmente difficile per loro ma in realtà perché mettono attenzione anche negli allenamenti quotidiani e quindi questo li pone a un livello che è difficile non metterli in campo perché veramente se lo guadagnano ed è giusto anche per cercare di dare un po' di cambio un po' di riposo perché veramente gli impegni sono ogni due giorni c'è qualcosa questa settimana ancora di più ne parleremo tra poco ti faccio un'ultima domanda da casa Roberto ti chiede che differenza c'è tra coach e assistant coach se ci sono proprio dei ruoli diversi oppure insomma se è solo un aiuto che ci si dà vicenda sì 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 no beh diciamo il ruolo è molto diverso insomma la responsabilità grande di tutta la baracca è sicuramente di Fabio insomma ecco io sono di supporto a lui o anche al resto dello staff a secondo di quello che serve insomma quindi diciamo il mio è un po' un ruolo un pochino più tondo insomma io mi devo muovere un po' dappertutto credo che il ruolo del secondo allenatore fondamentalmente sia quello di mantenere una serenità un po' dappertutto sia anche all'interno della squadra che all'interno dello staff perché poi è diciamo creare un ambiente favorevole al lavoro al miglioramento forse è la cosa più importante forse la cosa difficile è mantenere questa serenità ma poi essere sempre pronti a qualunque domanda che ti fai non sia dello staff sia della squadra che improvvisamente un tuttologo sì un tuttologo no non so non so se riesco ma insomma diciamo il mio impegno è sicuramente per quello e a proposito di questo spazio un attimo dalla situazione attuale della squadra tu hai rivestito diversi ruoli hai fatto tanto anche in nazionale anche nel volley femminile cosa ti ha portato a scegliere di venire a Trento questo anno? mi ha chiamato Fabio quando è stato appunto chiamato dal presidente da Re e io ho accettato subito insomma perché è un'occasione veramente importante per lavorare ad alto livello qui ci sono persone di grandi competenze nella società di grandi competenze nello staff e di grandi competenze nel gioco proprio i giocatori quindi era l'ambiente migliore per continuare a crescere e per continuare a lavorare ad un certo livello non mi sarei mosso probabilmente per andare da altre parti perché insomma non è sempre facile gestire la parte di casa della famiglia però in questo caso abbiamo deciso tutti quanti insieme che era la possibilità di un lavoro di un certo livello che non si poteva rinunciare hai lavorato tanto anche con i giovani, Trento ha delle giovanili che conoscono in molte parti dell'ambiente hai già avuto modo di vederle, di apprezzarle? abbiamo lavorato insieme con i ragazzi dell'Under 20, della serie B perché ci hanno aiutato tantissimo all'inizio dove avevamo mezza squadra ma conosco molto bene Francesco Conci che è il responsabile è molto bravo, ha sempre gestito molto bene tutto l'ambiente giovanile quindi diciamo che arriva del materiale umano che è già pronto insomma se è poco da intervenire quindi anche da quel punto di vista sto trovando veramente tanta qualità ma proprio nell'organizzazione, nella dedizione al lavoro quindi aiuta, aiuta la prima squadra, aiuta l'ambiente avere un giovanile di qualità è sempre la cosa più importante in una società purtroppo il tempo corre, dobbiamo pensare ai prossimi impegni c'è la partita con Milano, ne parleremo tra poco intanto andiamo a vedere cosa succede invece nel fine settimana a Bologna Si avvicina l'appuntamento con la Final Four 2023-2024 di Coppa Italia si gioca il prossimo fine settimana 27-28 gennaio alla Unipol Arena di Bologna Trento testa di serie numero uno grazie alla vittoria del girone di andata del campionato le gare di inizio 2024 hanno poi definito la griglia della due giorni emiliana che assegnerà il primo trofeo dell'anno solare i trentini hanno eliminato dai giochi Verona Monza ha avuto la meglio su Civitanova nella parte bassa del tabellone Perugia ha sconfitto Modena e sfiderà dunque Milano che a sua volta è eliminato dai giochi Piacenza la squadra detentrice del trofeo le due semifinali animeranno il sabato pomeriggio bolognese si inizia alle 16 con la sfida fra Trento e Monza le due squadre si sono già trovate di fronte tre volte in questa competizione ma sempre in occasione dei quarti i precedenti nell'ultimo anno solare sono ben sei considerato anche il campionato di playoff in totale tra le due formazioni ci sono 29 precedenti 26 le vittorie di Trento a fronte delle tre dei Brianzoli a seguire tornando a sabato 27 gennaio alle ore 18.30 circa la sfida tra Sir e Allianz le due vincenti si incontreranno sullo stesso campo il pomeriggio successivo nella finale programmata per le ore 15.45 di domenica 28 gennaio Trento ha vinto tre volte la Coppa Italia un trofeo che però ormai manca in bacheca da oltre dieci anni nonostante le tante finali disputate da ultimo quella del 2023 a Roma contro Piacenza L'Itas ha vinto la Coppa nel 2010 e poi per due volte nel 2012 L'ultima inquadratura sembrava profetica Adriano perché lo rivediamo mercoledì Mattei Kazischi che torna a Trento d'avversario c'è questa partita importantissima di Superlega prima di andare a Bologna Sì è una partita importante perché Milano è una squadra veramente impegnativa da tutti i punti di vista fanno delle mosse tattiche sempre molto aggressive molto definite quindi non sarà facile insomma l'abbiamo già vista l'andata e adesso soprattutto dopo aver giocato appena a Piacenza con la testa già alla Coppa Italia insomma sarà un altro appuntamento interessante Velocemente in Coppa Italia c'è Monza in semifinale avrete pochissimo tempo per prepararla ma ormai siete abituati a queste tempistiche Sì sì oramai in pochi giorni riusciamo a inquadrare insomma un po' l'avversario poi anche i ragazzi sono diventati bravissimi insomma colgono subito quelle che sono le informazioni utili e vanno dritti all'obiettivo Ovviamente l'obiettivo è giocarsi due partite in 24 ore si recupera poi in ogni modo Sì 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 poi ci sarà tempo e ci concentriamo intanto su quello Allora grazie Adriano Dipinto in bocca al lupo Grazie Noi ci fermiamo solo per qualche minuto restate lì perché poi c'è la parte dedicata al femminile avremo una ospite della formazione di coach Mazzantia tra poco Eccoci insieme come promesso ora ci dedichiamo più alla parte femminile dell'ITAS Trentino Io sono in compagnia di Giulia Marconato Ciao Giulia Ciao buonasera grazie Ben arrivata Dopo questa trasferta di Firenze partiamo subito da qui ancora una partita con un bel atteggiamento soprattutto nel secondo e nel terzo set fino a quel 13 pari poi cosa è successo? Sì allora possiamo dire che ritorniamo da questa trasferta un po' insoddisfatte perché comunque era una partita dove avevamo opportunità di prendere punti che sono molto importanti soprattutto per noi in questo periodo e non possiamo dire appunto che sia stato un match che sia andato male abbiamo lavorato questa settimana tanto sul cambio palla che infatti è andato molto bene durante la partita abbiamo avuto qualche problemino con il contrattacco magari abbiamo fatto delle scelte sbagliate come anche ha detto il coach e appunto questo terzo set ci siamo trovati un attimo così ci sono stati dei turni di battuta che ci hanno messo un po' in difficoltà sicuramente prendiamo tutto questo per lavorare adesso durante la settimana e arrivare al prossimo match che sarà contro Novara un po' più pronte preparate per provare a strappare anche lì qualche punto qualcosina insomma A questo punto la domanda è d'obbligo quanto continuate a credere in questa salvezza per questa stagione? Ovviamente sembra magari più difficile perché ogni volta comunque è una partita in meno esatto però io sono sempre dell'idea che la speranza è l'ultima a morire che comunque bisogna lavorarci fino in fondo e crederci sempre appunto per riuscire a trovare il risultato migliore c'è stato un cambio importante è arrivato Mazzanti hai sentito questo cambio anche in spogliatoio insomma sicuro che cambiare coach cambia le cose in qualche modo sì sì sicuramente un cambio c'è stato sicuramente perché comunque si è visto anche nelle scorse partite c'è stato un po' una scossa che ci ha mosso un po' comunque Mazzanti è arrivato con un aspetto e un atteggiamento molto positivo che questo ci serviva soprattutto per caricarci quindi sicuramente un cambiamento c'è stato è stato un cambiamento positivo comunque che si è visto secondo me si è visto siete sembrati più combattivi forse credete un po' più nel vostro gioco in campo sì sicuramente c'è anche questo sì 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 cambia anche molto il lavoro tecnico? come lavoro tecnico in realtà non ci sono chissà che grandi differenze comunque si lavorava tanto in palestra prima e si lavora tanto anche adesso quindi questo continua ad andare avanti ok allora andiamo a vedere cosa è successo sul campo del Bisonte Firenze il 3 a 0 giocato ieri dall'Itessa famiglia nemmeno a Firenze arriva la vittoria della ripartenza per le ragazze di Davide Mazzanti anzi la sfortuna torna a prendere a pallate il roster giallo-blu uno scontro fortuito sotto rete già nel primo set costa un trauma alla spalla sinistra per Madeleine Gates la centrale rientrata solo da poche settimane è costretta ad abbandonare subito il campo Mazzanti l'aveva schierata in coppia con Moretto con loro guiducci in regia Deogo Posto a Costa e Sherban in posto 4 e Mistretta libera la sostituirà poi con Olivotto perso il primo set 25-19 il tecnico Trentino prova anche il cambio in attacco con Micheletto per Sherban il gioco Trentino sembra crescere ma sul filo della parità sono ancora le Toscane ad avere la meglio 25-23 anche l'inizio del terzo set è incoraggiante e si lotta su ogni palla fino al 13-13 qui però arriva il perentorio decisivo break del Bisonte che segna addirittura un più set mettendo di fatto la parola fine sul match termina 25-15 3-0 e l'Itas torna a Trento con nessun punto dalla sfida toscana Firenze ferma Trento grazie a una prova solida con pochissimi errori solo 9 fra battuta e attacco e un ottimo sistema difensivo soprattutto al centro dove Mazzaro e Grazione in due stampano ben sette muri la migliore in campo l'americana Kendall Keep che da poco è arrivata alla corte del Bisonte segna a 19 punti il 43% con due muri per Mazzanti buone notizie che arrivano da Roslendi a Costa autrice di 20 punti con il 55% di positività a rete numeri che la rendono la top scorer del match non pensavo fosse così emozionante invece devo dire che già in realtà ieri sera appena arrivata a Firenze ho sentito molto l'aria penso che l'anno scorso sia stata una stagione anche se difficile per alcuni tratti molto bella amo questa città e quindi sicuramente tornare qua mi ha fatto veramente tanto effetto io penso che noi oggi siamo sempre stati lì ma non abbiamo mai trovato alla fine la chiave per riuscire ad agguantare l'altra squadra sicuramente Medi è un fattore aggiunto però anche chi l'ha sostituita ha dato una mano sicuramente abbiamo sentito anche dalle parole di Guiducci questo infortunio ancora non si sa vero Giulia come sta? no ancora non sappiamo bene adesso domani avrà la risonanza quindi insomma speriamo speriamo bene allora passiamo a quello che è la situazione su tutti i campi di questa Serie 1 per la quarta giornata di ritorno andiamo a vedere cosa è successo con Casal Maggiore battute in casa da Scandici 0 a 3 Cuneo Bergamo 1 a 3 Novara Bussor Sizio 3 a 1 Firenze Trento l'abbiamo visto 3 a 0 Chieri Milano 2 a 3 Roma Conegliano 2 a 3 Pinerolo Vallefoglia è finita 3 a 1 quella classifica che vede in testa Conegliano a 48 punti poi c'è Milano a 45 Scandici 41 39 punti per Novara Chieri 30 Firenze 24 punti così come Pinerolo e Vallefoglia 19 punti per Roma 17 Bussor Sizio 15 Bergamo 13 Cuneo Casal Maggiore è 11 chiude Litas a 4 punti allora siamo con Giulia Marconato io volevo chiederle appunto un po' di lei anche visto che questa è la prima stagione è la tua prima stagione in A1 giusto? Sì esattamente la mia prima come hai scelto Trento? Beh sicuramente perché come società mi ha subito convinto come anche progetto che comunque si ha in mente è una società seria e questo è soprattutto molto importante e quindi sì parlando sia con Bruno che con Duccio anche con l'allenatore che c'era ovviamente prima comunque avevamo un progetto e mi ha molto convinto poi comunque la 1 è vero che è un po' una sfida iniziare con una squadra che magari è appena stata promossa però per ora mi sto trovando bene quindi sono molto felice della scelta che ho fatto Tu sei trevigiana quindi comunque l'ambiente un po' lo conosci come montagne come Sì sì non sono troppo distante da casa quindi comunque anche questo è un aspetto aggiuntivo sicuramente Poi è insomma lo sport è questione di famiglia perché tu eri il papà che giocava ad altissimi livelli anche se a basket quindi anche la famiglia immagino che ha preso questa tua scelta molto bene ti hanno sostenuta Sì 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 da sempre mi hanno sempre sostenuta è vero che non ho mai fatto basket ma nonostante questo loro mi sono sempre stati vicini mi hanno spinto sempre insomma a fare il meglio che insomma che potevo fare Come mai? Cosa ti ha portato invece alla pallavola? Beh in realtà è nato un po' casualmente nel senso che ho una amica praticava pallavola quindi ho detto perché non provare così e sostanzialmente poi sono andata avanti su questa strada Ecco per quanto riguarda le domande da casa ti chiedono durante gli anni con la Nazionale Junior sei trovato spunto di crescita dalle compagnie o cerchi anche ispirazione guardando le centrali già affermate nella Nazionale Maggiore? Beh sicuramente ho avuto l'occasione di lavorare anche con delle compagne che erano più grandi di me perché le annate erano divise insomma io ero comunque le più grandi e quindi da là ho preso un sacco di spunti soprattutto dalle mie compagne ma anche guardando appunto nei campionati non so mondiali europei anche altre centrali sicuramente questo mi ha aiutato molto Il campionato italiano chi ti piace di più? Beh ce ne sono molte che mi piacciono non saprei dirne proprio una diciamo che mi piacciono determinati insomma sia movimenti tecnici che in generale un po' anche come stare in campo di diverse giocatrici subito centrale o hai provato anche altri ruoli? No subito centrale perché ho iniziato pallavolo un po' più tardi quindi essendo già alta di miglia mi hanno messo subito come centrale Ecco Nadia ti chiede se potessi scegliere che cosa migliorare nella tecnica quale fondamentale vorresti crescere? Sicuramente probabilmente adesso nell'attacco migliorare un po' e poi forse anche nella battuta che è qualcosa che ogni tanto va un po' così Ecco Andrea invece ti fa una domanda sul momento particolare della squadra come si affronta in gruppo questo momento all'essere ultima in classifica cosa vi dite? Vi incoraggiate vicendo oppure si rischia un po' di tirarsi giù? Allora sicuramente non è facile nel senso che ci sono dei momenti in cui magari sei un po' giù è vero perché comunque non è una situazione facile però cerchiamo appunto durante la settimana di lavorare al meglio di tirarci su perché comunque ancora mancano delle partite è vero l'obiettivo magari è sempre più difficile però se ci tiriamo giù poi diventa proprio impossibile quindi cerchiamo sempre insomma di trovare un aspetto positivo di continuare a lavorare su quello Allora andiamo a vedere l'ultimo servizio di oggi che ci riassume quelli che sono i prossimi impegni della maschile e della femminile dunque vediamo cosa aspetta anche la formazione di Giulia questa settimana settimana importantissima quella che si apre per la Trentino Volley soprattutto per la formazione maschile della società che se tutto andrà bene si giocherà ben tre partite nell'arco di soli cinque giorni ma andiamo con ordine mercoledì 24 gennaio si scende in campo per la quinta giornata del girone di ritorno di regular season a Trento si gioca le 20 e 30 e sarà l'occasione per rivedere al T quotidiano Arena il Kaiser Mattei Kazischi per la prima volta dopo la vittoria dello scudetto a maggio in contemporanea si giocano Catania Civitanova Monza Verona Cisterna Piacenza Perugia Taranto posticipata giovedì 25 gennaio alle 20 e 30 la partita tra Padova e Modena Trento partirà poi alla volta di Bologna dove nel fine settimana si gioca la Final Four di Coppa Italia le due semifinali sono sabato 27 gennaio la prima quella che interessa Litas alle 16 contro Monza la seconda si gioca alle 18 e 30 tra Perugia e Milano le due vincenti si troveranno poi di fronte domenica 28 gennaio alle ore 15 e 45 e veniamo alla 1 femminile in settimana le squadre qualificate si giocano i quarti di Coppa Italia per la prima giornata si incontrano Scandici e Pinerolo Conegliano e Firenze Novarechieri Milano-Roma nel fine settimana invece spazio alla quinta giornata di ritorno del campionato si inizia sabato 27 gennaio alle ore 21 con Conegliano Scandici il giorno dopo domenica 28 gennaio alle 17 giocano Milano-Bergamo Chieri-Vallefoglia Roma-Firenze Busto-Arsizio-Pinerolo alle 18 e 30 è la volta dell'Itas che scende in campo all'Alticotidiano Arena contro Novara alle 19 Cunio-Casalmaggiore Allora abbiamo visto prossima avversaria è Novara che verrà al Ticotidiano Arena Domenica che squadra avete già cominciato a parlarne a confrontarvi? Sì sicuramente è una squadra di alta classifica ben preparata proprio per questo noi comunque dovremmo affrontarla con un po' più diciamo di tranquillità senza avere troppe pressioni quindi cercare di dare il meglio appunto come dicevo prima per rubare qualche punticino comunque fare del nostro meglio anche perché all'andata c'eravate quasi riusciti esattamente quindi insomma cerchiamo di replicare qualcosa di simile magari portando qualcosa di più e speriamo che il fattore campo aiuti grazie in bocca al lupo Giulia grazie noi ci fermiamo qui ora se volete rivederlo c'è la sintesi del match vinto dall'Itas maschile a Piacenza per 3 a 1 vi ricordo mercoledì sera in casa la partita maschile domenica in casa c'è la partita delle ragazze e a Bologna invece si gioca la Final Four di Coppa Italia ci rivediamo lunedì prossimo qui alle 21 grazie per averci seguito buona settimana grazie a tutti